Sono carichissimo perché lo volevo ordinare da anni e non è facile aprirlo Questa come vedete è una treadmill, adesso la apriamo Ora ve la faccio vedere così, poi questa andrà messa sotto questa scrivania e questa scrivania si alza e si abbassa E quindi poi l'obiettivo è riuscire a camminare mentre lavoro con la scrivania alta Questa treadmill è del marchio Walking Pad che tra l'altro è stato acquisito da Xiaomi È uno dei migliori marchi, c'è l'applicazione, il telecomando, può essere connessa a mille cose E come vedete il design è molto figo, si può piegare in due Però potete spendere anche molto meno di quello che ho speso io Ora la proviamo perché la funzione più figa è la velocità automatica Il che vuol dire che in base a come cammini lei prende la tua velocità in base alla zona dove sei all'interno di questa Ole! Let's try it out! Turn on! Ole!